Buon Natale da chi sa farti sorridere, giocare. Buon Natale da amici che sanno farti divertire, con avventure meravigliose, con storie magiche e indimenticabili. Buon Natale dagli amici del regno più bianco e magico che ci sia. E con i giocattoli di Cars, Tori, Soiluna, delle principesse Disney, di Topolino e di Disney Frozen, il Natale sarà ancora più magico. Natale Disney. Scoprilo nei Toy Center. Grazie a tutti.